Si sta ragionando in queste ore sulle zone, contro zone, sotto zone. La mia opinione è che queste zone sono una grande buffonata. Sapete che abbiamo avuto la decisione delle zone rosse. Io continuo a ripetere che siamo di fronte a qualcosa che non merita neanche i commenti. Credo di aver verificato, come tutti quanti i cittadini campani, che al di là dei negozi di abbigliamento per adulti e abbigliamenti di altri generi, vendita di scarpe, pelletterie e quant'altro, è tutto aperto. E il livello dei controlli, tranne forse la prima giornata, i primi due giorni, è praticamente uguale a zero. Parlare in queste condizioni di zona rossa è qualcosa che veramente fa innervosire, volevo dire fa indignare. Io ormai mi sono convinto che, e lo dico tranquillamente ai nostri concittadini, cari concittadini, noi siamo nelle mani del Padre Eterno e per quello che ci riguarda della Regione Campania. Tutto il resto è una valanga di chiacchiere, di fumo, di ipocrisia e di finzioni. Questa non è una zona rossa, non so che cosa sia. Evitiamo perlomeno di prenderci in giro.